Noi non abbiamo mai parlato di un posto, di un ministero, di un altro, di un'eventuale compensazione rispetto all'appoggio. Due giorni fa Giorgia Meloni ha detto che per uscire dalla situazione difficile in cui era il Paese, non il 5 Stelle o la Lega, ma il Paese, di fronte alla speculazione internazionale, il Partito Italia era disponibile ad appoggiare quel governo, senza chiedere in cambio nulla, anzi, dicendo che poteva essere anche un appoggio esterno, quindi non solo non chiedeva nulla, ma non si metteva nelle condizioni di averlo. Non sarò ministro della difesa, tutti mi dicono che sono interessato, mi sono pure dimesso dalla Camera, non so cosa devo fare di più. Continuo a fare politica perché mi piace, ma dimostro la mia totale libertà.